Buonasera a tutti dall'area media del centro sportivo intercomunale di Mezzano di Primiero per la conferenza stampa post ultima amichevole ma anche di chiusura del ritiro estivo 2021 a Primiero dell'Ellas Verona con mister Eusebio Di Francesco. Ai giornalisti qui presenti lascio la possibilità di rivolgere al mister 2 barra 3 domande a testa. Iniziamo da Simone Antolini dell'arena. Buonasera mister ben ritrovato ancora è il momento di fare un bilancio finale di questo ritiro un Verona che ha lavorato tantissimo si è appesantito e lei ha iniziato a infarcirlo di tutto quello che ha dato questo Verona a margini di questa amichevole ridico un commento che non riguarda solo questa gara insomma. In generale bisogna dire che abbiamo veramente lavorato tanto con grande intensità con grande desiderio di ricercare anche i ragazzi quello che io li chiedevo. Ovviamente per quanto riguarda la partita di oggi siamo partiti con un po' di difficoltà specialmente nel primo tempo a livello anche fisico eravamo poco brillanti ma me l'aspettavo. Era un timore che c'era nell'area ma è la normalità. Adesso sono convinto che dopo due giorni di riposo rientreremo e saremo ancora più brillanti e riusciremo un po' a smaltire i carichi di lavoro che abbiamo fatto in questi giorni. Per il resto sono molto contento della voglia di fare dei ragazzi è normale che diciamo l'aspetto positivo e non aver mai preso gol e l'aspetto ovviamente che bisogna sicuramente migliorare ma non lo ritengo negativo ed essere un pochino più concreti quando creiamo situazioni sottoporta nell'andare a concretizzare la notevole mole di gioco in particolar modo quella vista più nel secondo tempo che nel primo. Negli sviluppi della sua squadra cosa la incuriosisce di più nel vedere quali possono essere i margini nella costruzione, nello stare insieme, nello sviluppare il suo gioco? Su cosa andrà a lavorare adesso? Ma su tutto, su tutto anche cercando di dare sempre quel desiderio come facevano anche oggi di essere aggressivi uomo contro uomo è normale dobbiamo migliorare le aggressioni, ci lavoreremo, ci abbiamo lavorato continueremo ancora a farlo però quando vuoi essere aggressivo e non ti accompagni anche un po' non solo la testa ma anche il fisico a volte fa fatica per quello abbiamo trovato davanti a noi una squadra più brillante, non so che tipologia di lavoro abbiamo fatto però sicuramente erano sia per fisico e per struttura erano più brillanti di noi in quelle che erano le scelte. Come dicevo prima in particolar modo nel primo tempo dove abbiamo sbagliato qualcosa a livello tattico nelle scalate nel secondo ci siamo rimessi meglio nel andare a recuperare la palla sugli avversari. Nell'ultima intervista che ci aveva regalato ha parlato un po' di cosa manca questo Verona anche andando a toccare i reparti ecco quanto è distante nella possibilità di avere i giocatori questo Verona cioè quanto deve essere ritoccato ancora questo Verona anche se ha già dato delle indicazioni proprio di campo? Ma guarda la differenza anche nei campi nel fatto che tu vuoi in questo momento cambiare con qualche piccolo infortunio da una parte all'altra siamo un po' ridotti adesso li avremo dal 27 anche Barac con noi è normale che comincerà a giocare gradualmente abbiamo avuto qualche piccolo infortunio che ci sta durante un ritiro dei piccoli tra Rueg lo stesso Bragantini ieri e altri giocatori che non ho potuto utilizzare è normale che sulle fasce sempre avevo per caratteristica come ruolo solo Lazovic e Faraoni e ho dovuto un pochino adattare durante la partita alcuni giocatori però si sono comportati in maniera egregia anche chi ha sostituito dal punto di vista dell'atteggiamento. Poi cedo la parola solo se vuole rispondere è vicinissimo l'arrivo di Illich le piacerebbe gestire un ragazzo che rappresenta una scommessa già vinta l'anno scorso? Grazie. Ma è presto per dirlo sicuramente è un giocatore che ha delle enormi qualità questo lo posso dire è normale che parleremo magari in maniera più approfondita di lui quando mi auguro ci auguriamo che possa tornare qui è una trattativa che voi sapete benissimo venute da nasconderla non è detto che sia indirittura d'arrivo però tutti ci auguriamo che possa arrivare poi parleremo anche delle caratteristiche del giocatore che forse conoscete anche meglio di me. È la volta di Alberto Fabri direttore di Hellas Live Prego Alberto. Ben trovato mister dicevi poc'anzi abbiamo segnato poco sono undici in due partite è vero non abbiamo subito alcun gol però ti chiedo nel reparto offensivo Kalinic sta facendo fatica insomma conclude poco? Sì guarda se dovessimo valutare le squadre per quelle che sono i primi 15 giorni di ritiro e dare delle valutazioni definitive ci sarebbero promossi e bocciati con troppa facilità secondo me non ci sono promossi e bocciati ci sono giocatori che si sono messi più in evidenza e altri che devono trovare una condizione migliore. Nicola non ha potuto lavorare nemmeno penso l'anno scorso per i vari infortuni con grande continuità lo sta facendo in questo ritiro credo che la cosa più importante è che sia arrivato a finirlo in maniera corretta senza infortuni augurandoci che diventi un pochino più brillante anche normale che quando metti carico 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 e non hai possibilità di recuperare un pochino più pesante sei e Nicola deve snellire un po' quello che è il suo modo di muoversi e mi auguro quanto prima possiamo averlo più brillante anche sia in zona di rifinitura che in zona gol. Hai cambiato completamente la difesa tra primo e secondo tempo Magnani da difensore che imposta fa più fatica rispetto a Gunter. Hanno caratteristiche differenti. Corai più disposto a venire a giocare Magna un po' meno ma può migliorare e deve migliorare nel farlo. La partita precedente l'aveva fatto meglio oggi un pochino meno ma parliamo un po' di squadra che si era mossa un pochino meglio l'altro la partita scorsa nel primo tempo con avversari poi anche ovviamente differenti e con carichi di lavoro inferiori rispetto a quelli che abbiamo accumulato fino alla fine. Poi ho fatto il calciatore vi dico che l'ultimo giorno di ritiro l'ultima partita con la testa magari anche da altre parti il rischio è sempre grandissimo prima di tutto di farsi male. Già evitato questo credo che sia importante. Poi se avessimo vinto meglio non l'abbiamo fatto ma è stato un buon test per me per fare diverse valutazioni. Ecco una valutazione secondo me ha come protagonista Tamese che in queste partite l'hai preferito più volte a Ungla anche perché è uno degli ultimi arrivati però nel secondo tempo hai tirato via veloce e hai provato la coppia Ungla-Tamese che peraltro durante gli allenamenti avendoli seguiti tutti è una soluzione che più volte hai attuato. Non ha giocato quell'altro Ungla innanzitutto perché era infortunato e ho cercato di farli lavorare e capire per farli giocare insieme prima una coppia poi un'altra per vedere anche l'affinità e il modo di muoversi insieme e credo che stiamo lavorando più su che un discorso individuale un concetto di squadra di muoversi insieme di lavorare come dicevo sempre sul noi e al di là delle caratteristiche che si sono importanti. Volevo vedere come si muovevano le varie coppie all'interno di una partita. Poi ricordiamoci che Miguel ha fatto tutti gli allenamenti non ne ha saltato uno, ha giocato 88-60 minuti. Io dico il rischio sempre dietro l'angolo avevo già calcolato di farli fare a inizio gara 45 minuti. In ultima il noi deve prevaricare su tutto, questo è indiscusso, intanto saluta giustamente il presidente e il direttore sportivo che stanno andando via, importanti ovviamente la loro presenza. Il direttore operativo, perdono scusa, pensavo fosse Tony. Ti chiedo, il noi deve sempre dominare però di questo ritiro il giocatore ti ha maggiormente impressionato se ce n'è uno? No, più che maggiormente impressionato ho conosciuto tanti ragazzi che magari conoscevo meno a partire, voglio partire da Coppola, magari quello meno utilizzato, ragazzi molto interessanti da cancellieri, lo stesso Bragantini, ho conosciuto le potenzialità di questi giovani è importante e lo stesso Casale che secondo me è cresciuto tanto dall'inizio del ritiro a seguire. Per quello tutte cose interessanti che mi fanno capire e conoscere non solo le caratteristiche tecniche ma anche psicologiche e fisiche di questi ragazzi. In ultima lascio la parola a Federico Montresor del nostro ufficio stampa per rivolgere anche alcune domande che ci sono arrivate dai giornalisti oggi non presenti qui in ritiro. Prego Fede. Matteo Fontana le chiede mister una valutazione sui giovani impiegati in queste settimane, in parte ha già risposto. Bene, ho già un po' risposto sul discorso dei giovani, tutti molto interessanti, non lo dico qualcuno un pochino più pronto, qualcuno meno, però più li facciamo lavorare all'interno di questo contesto e più riescono a migliorare e a crescere, di questo ne sono pienamente convinto. Luca Chiarini di Tutto Mercato Web le chiede poi il punto sul parco difensori del Verona, cosa pensa del suo parco difensori? Bene, abbiamo diversi con diverse caratteristiche, in questo momento credo che forse è il reparto dove siamo più forniti in generale, dove ci manca un po' sulle corsie laterali e davanti dove ho poche soluzioni anche volendo, non solo a gara iniziale ma anche a partita in corso, ricordandoci che sta giocando quasi sempre il titolare, hanno giocato sempre ragazzi della primavera o Bragantini o Cancellieri che considerano le potenzialità ma arrivano pur sempre dalla primavera. Sempre Chiarini, in ultima le chiede di Baracca che ha menzionato prima il suo rientro previsto per i prossimi giorni, quanto punta su questo giocatore, su Antonin Baracca? Credo che abbia dimostrato l'importanza in questa squadra già l'anno scorso e mi auguro che la confermi anche quest'anno, è ovvio che arriverà e verrà messo gradualmente all'interno del gruppo e all'interno delle gare. Ok, bene così, chiudiamo qui la conferenza stampa del ritiro 2021 dell'Ellas Verona a Primiero, grazie a mister Eusebio Di Francesco per la consueta disponibilità, grazie ai colleghi presenti che si sono secceduti in queste due settimane, grazie per l'ospitalità a tutta la Valle del Primiero e a tutti gli enti preposti all'organizzazione di questo ritiro. Buona serata a tutti.